bentornata o bentornato sul canale nel video precedente abbiamo parlato della prima legge di kirchhoff e abbiamo visto che essa è legata al concetto di resistenza in parallelo oggi parliamo della seconda legge e vediamo che è connessa alle resistenze in serie la seconda legge di kirchhoff riguarda le maglie quindi prima cosa capiamo che cos'è una maglia in un circuito elettrico una maglia è semplicemente un percorso chiuso fatto dai fili elettrici quindi ad esempio in questo circuito possiamo vedere tre maglie ce n'è una sotto lungo le resistenze r5 r4 ed r3 poi ce n'è un'altra sopra lungo le resistenze r3 r1 ed r2 e infine c'è una terza maglia seguendo il percorso esterno quindi che non include la resistenza r3 la seconda legge di kirchhoff afferma che la somma algebrica cioè la somma con segno delle differenze di potenziale che si incontrano lungo una maglia è uguale a zero quindi lungo ognuna delle tre maglie che abbiamo evidenziato prima la somma algebrica delle differenze di potenziale è uguale a zero cerchiamo di capire meglio questa affermazione con un esempio consideriamo il circuito in alto che potrebbe anche essere una parte di un circuito più grande abbiamo un generatore cioè una batteria da 12 volt e poi abbiamo tre resistenze r1 da 1 ohm r2 da 2 ohm ed r3 da 3 ohm in un circuito per determinare il verso della corrente elettrica bisogna tenere conto che è sempre uscente dal polo positivo ed entrante nel polo negativo quindi se partiamo dal segno più la corrente i prima attraverserà la resistenza r1 si sposta verso il punto b poi scende e attraversa la resistenza r2 quindi la resistenza r3 per poi tornare al generatore nel polo negativo la funzione del generatore se viene percorsa in questo senso cioè dal meno verso il più è quella di alzare il potenziale quindi il potenziale dopo il generatore sarà più alto del potenziale prima del generatore allora per convenzione si pone uguale a 0 il potenziale nel punto più basso quindi v con a è uguale a 0 e dopo il generatore il potenziale sale di un certo valore in questo caso di 12 volt come indicato quindi in questo punto subito dopo il generatore il potenziale sarà uguale a 12 volt se percorriamo tutta la maglia nel senso della corrente il potenziale dovrà tornare a 0 questo perché ogni resistenza determina una caduta di potenziale cioè una diminuzione del potenziale quindi dopo la resistenza siamo al punto b il potenziale sarà più basso quindi vb sarà minore di 12 volt vb minore di 12 volt poi si attraversa un'altra resistenza r2 si arriva al punto c e vc sarà minore di vb e poi si attraversa una terza resistenza e si ha il potenziale vd che sarà ancora minore di vc ma vd è proprio uguale a 0 perché tra il punto d e il punto a non c'è nessuna resistenza e quindi tutti questi punti hanno lo stesso potenziale perché ricordiamo che dall'elettrostatica abbiamo visto che in un conduttore ideale tutti i punti hanno lo stesso potenziale il grafico qui sotto rappresenta quello che abbiamo appena detto quindi la batteria porta una salita di potenziale in questo caso di 12 volt e poi ogni resistenza rappresenta una caduta di potenziale quindi il potenziale diminuisce su ogni resistenza di una quantità delta v che è uguale per la prima legge di ohm a meno i per r quindi la caduta di potenziale è direttamente proporzionale alla resistenza dato che le resistenze valgono 1 2 e 3 e complessivamente la caduta deve essere di 12 risulta evidente che la caduta sulla prima resistenza sarà di 2 volt quindi qui arriviamo a 10 volt poi su 2 ohm la caduta sarà di 4 quindi qua arriviamo a 6 volt e poi di altri 6 la seconda legge di kirchhoff quindi dice una cosa molto semplice dice che sull'intera maglia la salita di potenziale deve essere uguale alla somma delle cadute perché si ritorna al punto di partenza è lo stesso discorso che vale per il campo di gravità lungo un percorso chiuso ad esempio lungo un'escursione in montagna se noi facciamo un giro in montagna il dislivello che facciamo in salita deve essere uguale se torniamo nello stesso punto di partenza al dislivello che abbiamo fatto in discesa se siamo saliti di 500 metri chiaramente per tornare allo stesso punto dobbiamo scendere di 500 metri e la stessa cosa vale per i circuiti ecco questa fontanella con circolo d'acqua interno esemplifica un po' una maglia con due resistenze cioè la batteria che porta l'acqua in alto quindi crea una salita di potenziale e poi ogni resistenza è una caduta di potenziale quindi la salita deve essere uguale alla somma delle discese veniamo ora al concetto di resistenze in serie due o più resistenze sono dette in serie se sono attraversate dalla stessa corrente ad esempio nell'immagine di sinistra le resistenze r1 r2 ed r3 sono in serie perché sono tutte attraversate dalla corrente i questo circuito di sinistra può essere semplificato con un circuito equivalente avente un'unica resistenza detta resistenza equivalente il cui valore è uguale alla somma delle resistenze in serie che cosa significa che questo circuito è equivalente a quello iniziale significa che applicando la stessa tensione si ha la stessa corrente del circuito precedente prendendo ad esempio i valori precedenti quindi un generatore da 12 volt e una resistenza r1 da 1 ohm r2 da 2 ohm r3 da 3 ohm allora risulta che la resistenza equivalente è uguale a 1 più 2 più 3 cioè 6 ohm e in questo modo si può calcolare la corrente i come v fratto r quindi come 12 volt fratto 6 ohm che da 2 ampere possiamo dimostrare che la resistenza equivalente si può calcolare proprio come somma delle varie resistenze se esse sono in serie applicando la seconda legge di kirchhoff infatti la tensione v del generatore meno le cadute v1 v2 e v3 lungo le tre resistenze sono uguali a 0 quindi v è uguale a v1 più v2 più v3 ma v1 v2 v3 per la prima legge di ohm sono uguali a ir1 più ir2 più ir3 e quindi se raccogliamo la corrente i diventa i per r1 più r2 più r3 e portando tutto il denominatore si ottiene che la corrente è uguale a v fratto r1 più r2 più r3 ma la corrente è anche uguale a v fratto la resistenza equivalente e quindi risulta che r1 più r2 più r3 è uguale alla resistenza equivalente il video è terminato ma ti lascio alcuni link interessanti tocca il riquadro in alto a sinistra per vedere la prima legge di kirchhoff in alto a destra per vedere un video che insegna a risolvere i circuiti con le resistenze in serie e resistenze in parallelo in basso a sinistra per risolvere i circuiti con kirchhoff e infine a destra in basso la playlist ai miei video di elettromagnetismo ciao e grazie